Molto più di una scuola calcio, una grande famiglia quella dell'SD Pro Calcio che accoglie due figure di prestigio che rappresentano la novità della nuova stagione appena iniziata. A disposizione degli oltre 500 bambini delle quattro sedi in provincia di Frosinone ci saranno con tutta la loro esperienza e passione per questo sport l'ex arbitro di Serie A Marco Gabriele e l'ex giocatore del Frosinone Fabrizio Perrotti. Gabriele e Perrotti ricopriranno rispettivamente il ruolo di direttore generale e responsabile dell'area tecnica dell'SD Pro Calcio. L'ingresso in società di due figure veramente importanti sulla piazza di Frosinone, non solo, perché tutti e due non hanno bisogno di presentazioni, uno è il nostro nuovo direttore generale Marco Gabriele, ex arbitro di Serie A che tutti conoscete, e poi il nostro direttore tecnico Fabrizio Perrotti che ringrazio per aver accettato questo incarico perché si è sempre occupato comunque di prime squadre, però da quest'anno ha voluto entrare in questo progetto, noi siamo veramente orgogliosi. E per non farvi mancare nulla anche l'allenamento in inglese da quest'anno per le quattro sedi dell'SD Pro Calcio? Sì, ne abbiamo parlato prima, veramente questa è una grande novità, quindi una stazione dell'allenamento sarà fatta esclusivamente in lingua inglese, quindi l'allenatore di madrelingua si rapporterà con il bambino chiaramente in inglese, con termini molto semplici, però lo aiuteranno oltre che a scuola ad imparare, ripeto, una lingua molto importante, perché oltre al calcio e alla tecnica vogliamo fare comunque educazione e anche insegnamento. Sono rimasto favorevolmente impressionato dall'organizzazione che ha già l'ASD e quindi spero di poter portare un contributo importante per quello che secondo me è l'interpretazione che deve avere una scuola calcio, quindi l'educazione e lo sport. Sicuramente nessuno di noi, io lo staff tecnico, priverà i bambini dei sogni, però i bambini non bisogna ingannarli secondo me e dovranno vivere la loro dimensione di gioco e di fantasia e poi magari anche sognare con la cresta del loro campione preferito come pettinatura, ma vivere poi la quotidianità e il confronto con i coetanei. Ci siamo sentiti con Marco, era una situazione che già da diverso tempo mi aveva detto, io sinceramente ci ho pensato un pochino, però devo dire che adesso che sono qui sono contento perché, ripeto, ho trovato un'organizzazione, ho trovato delle persone secondo me giuste per questo tipo di sport, diciamo, per i bambini, quindi sinceramente sono molto contento. Ripeto, io spero di dare il mio contributo perché credo che con la mia esperienza di poter aiutare questa società perché, ripeto, già è molto all'avanguardia, però spero di poter dare qualcosa in più anch'io.